Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli aggiornamenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Che siate appassionati di spettacolo o meno, è probabile che conosciate tutti Jerry Scotti, un'iconica figura nel mondo dell'intrattenimento. Jerry è noto non solo per la sua maestria come conduttore, ma anche per la sua autenticità e la passione che trasmette attraverso lo schermo. Tuttavia, in questi giorni, Jerry sta affrontando un periodo difficile a causa del suo improvviso ricovero, una notizia che ha colpito profondamente molti di noi. Jerry ha sempre conquistato il cuore del pubblico, ed è per questo che questo momento è così toccante. Fortunatamente, le persone vicine a lui confermano che al momento è fuori pericolo e sta mostrando segni di miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Attualmente, Jerry non ha rilasciato dichiarazioni dirette, ma la notizia stessa parla da sola. Noi auguriamo il meglio a lui e siamo tutti in attesa, sperando in un rapido e completo recupero. Vi chiediamo di inviare messaggi di pronta guarigione per Jerry, mostrando il vostro affetto e il vostro sostegno in questo momento delicato. La sua salute è la nostra massima preoccupazione, e speriamo che possa tornare presto a sorprenderci con la sua straordinaria presenza sullo schermo. Vi terremo aggiornati sul suo recupero.